Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Il CDA d'Intesa ha deliberato all'unanimità la disponibilità a rilevare certe attività e passività facenti capo alla Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca. Lo si legge in una nota in cui si precisa che sono esclusi dal perimetro dell'eventuale acquisizione i crediti deteriorati, quelli in bonus ad alto rischio, le obbligazioni subordinate, nonché partecipazione ai rapporti giuridici considerati non funzionali. Intesa esclude aumenti di capitale e prevede il pagamento di un corrispettivo simbolico. Brutale rapina in casa la scorsa notte in provincia di Verona a Bovolone. Tre banditi sono entrati in un'abitazione nella casa di una famiglia e hanno minacciato il padrone di casa arrivando anche a picchiarlo. Dalle testimonianze si tratta di tre banditi dell'est Europa. In casa c'erano genitori e la figlia di 35 anni. Tantissima ovviamente la paura. Gli sconosciuti si sono impossessati di vari oggetti d'oro e denaro e poi si sono allontanati dileguandosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Villa Franca di Verona e della stazione di Bovolone che hanno subito attivato una serie di controlli e ora stanno continuando le indagini alla ricerca dei banditi. Le vittime della rapina sono state medicate sul posto da personale del 118. A Massanzago in provincia di Padova, atterraggio di emergenza per un elicottero militare polacco. Incredibilmente, fortunatamente non ci sono state vittime salvi il pilota e tutte le persone che erano a bordo. Sul posto sono accorsi numerosi soccorsi, carabinieri su e mai vigili del fuoco. Il mezzo è stato subito dopo l'atterraggio avvolto dal fuoco. Dalla ricostruzione il velivolo che era partito da Estrana avrebbe preso fuoco mentre era in volo. Il pilota, vedendo le fiamme, non ha esitato ad eseguire le manovre di emergenza e salvare dunque gli occupanti. Poco dopo il motore sarebbe esploso. Fuga dall'Italia, 500.000 i connazionali che si sono trasferiti all'estero. Sentiamo i dettagli. Sentiamo quotidianamente parlare dei numeri relativi all'immigrazione. Ma quali sono invece i numeri relativi all'immigrazione? A fornire i dati ufficiali è l'osservatorio statistico dei consulenti del lavoro nel rapporto Il Lavoro, dove c'è un'analisi degli spostamenti per motivi di lavoro negli anni della crisi. Dal 2008 al 2016 sono più di 500.000 i connazionali che si sono cancellati dall'anagrafe italiana per trasferirsi all'estero. Al primo posto tra le destinazioni dei nuovi emigrati italiani c'è la Germania, seguita dal Regno Unito e Francia. Da questo studio è emerso anche un altro dato che però riguarda gli stranieri residenti in Italia per motivi di lavoro. 300.000 di loro sono rientrati a casa perché nel bel paese non avevano più un'occupazione. Paura ma senza conseguenza in una palazzina della provincia di Padova, Pionca di Vigonza. Nell'edificio vi era un forte odore di gas che ha preoccupato non poco. Evacuate le famiglie residenti. Già questa mattina molto presto sul posto sono stati eseguiti numerosi interventi che hanno permesso di mettere in sicurezza l'edificio. Non ce l'ha fatta la donna di 76 anni che l'altro giorno a Padova, mentre era in bicicletta, è stata travolta da un'auto. La donna, Ivana Scordo di Padova, è morta in ospedale dopo 24 ore. Le sue condizioni erano apparse gravissime da subito. L'incidente si era verificato in città in via stoppato. Costante la presenza dei Vucumpra sulle spiagge del Veneto, anche se in generale un po' in tutte le spiagge italiane. E sul nostro litorale sono già cominciati anche i controlli. Come ogni anno sul litorale Veneto approdano assieme ai turisti anche un numero imponente di Vucumpra. Le nazionalità sono molteplici, dal cinese che offre massaggi, all'africano che vende asciugamani, borse di false griff, pakistani e ancora marocchini. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. I loro volti entrano nella quotidianità di chi sceglie una spiaggia per le vacanze estive, perché bene o male vengono suddivise anche le zone di pertinenza. Un vero e proprio mercato illegale, parallelo alle numerose attività lecite che creano danno al tessuto economico onesto. Anche per l'estate 2016 sono iniziati i controlli per fronteggiare questa piaga sociale. A Venezia, i carabinieri della locale compagnia in abiti civili sono scesi sulla spiaggia del Lido. Fermato un cittadino del Bangladesh che vendeva numerosi prodotti senza autorizzazioni. Sequestrata la merce ed emessa una sanzione, i controlli saranno frequenti su tutto il litorale. Il Veneto continua a soffrire per la siccità. Il territorio presenta una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali. Così il governatore Zai ha firmato una nuova ordinanza dopo quella del 18 aprile e del 16 maggio che conferma lo stato di crisi idrica per attuare le misure necessarie a contrastarla. In particolare la carenza d'acqua nell'Adige è a preoccupare con possibili conseguenze anche per gli acquedotti. La nuova ordinanza sarà valida fino al 15 luglio. Stabilisce restrizioni in particolare per l'Adige in maniera minore per il Piave e gli altri bacini idrografici dove i consorzi irrigui dovranno ridurre il prelievo netto di portate derivate o subderivate dal fiume in base alla portata media registrata giornalmente a Trento San Lorenzo secondo uno schema che prevede una riduzione percentuale progressiva. E dunque il problema della siccità è davvero molto forte sul territorio. Avete sentito a livello regionale quali sono le disposizioni ma adesso iniziano anche le ordinanze locali come a Bassano del Grappa. A Bassano del Grappa scatta l'ordinanza contro la siccità. Il Comune ha predisposto nuove regole per l'uso dell'acqua dal 1 luglio al 31 agosto 2017. Decisione drastica ma indispensabile visto il perdurare della mancanza di pioggia. In questo momento oltre ai problemi di siccità nei campi c'è anche una riduzione progressiva della portata delle fonti di approvvigionamento idrico. Divieto per tutte le utenze domestiche di usare l'acqua per innaffiamento di orti e giardini, riempimento di piscine private, lavaggio di automezzi e spazi esterni e ogni altro uso diverso dall'uso domestico dell'acqua. Arrestato a Padova un truffatore seriale che nel mirino aveva persone anziane. Nei carabinieri della stazione di Prato della Valla hanno eseguito l'operazione arrestando l'uomo Aldo Fogliero, 59 anni, originario del Foggiano, ma domiciliato a Colonio Monzese per una truffa di 6.830 euro ai danni di un uomo di 77 anni, Padovano. La denuncia risale a marzo. Fogliero, pluri pregiudicato per truffe agli anziani, aveva contattato al telefono l'uomo dicendogli di essere un avvocato e notificandogli un debito di 1.930 euro per il mancato pagamento di alcune riviste. Dopo aver ricevuto il bonifico, Fogliero aveva richiamato l'uomo e gli aveva dato il numero di un sedicente giudice. Contattato dall'anziano, il complice di Fogliero ha chiesto altri 4.900 euro per archiviare definitivamente la pratica. Dopo aver eseguito il secondo bonifico ed essersi confidato con il figlio, il Padovano ha così effettuato la denuncia. I carabinieri hanno scoperto che il codice IBAN fornito dal truffatore era associato ad una carta post-pay evoluta, intestata a lui che nel frattempo aveva già prelevato l'importo. Numerose sarebbero le vittime cadute nella rete dei malintenzionati che avevano già accumulato 39.000 euro. La circolazione ferroviaria nel pomeriggio di oggi è stata interrotta sulla linea Bologna-Verona tra le stazioni di San Felice e sul Panaro, vicino a Modena e Crevalcore nel Bolognese, per alcuni focolai di incendi di sterpaglie. La tratta interessata era libera, non c'erano treni fermi. Lo stop è stato adottato per questioni di sicurezza su indicazione della Polizia Ferroviaria. Uno sguardo alle condizioni climatiche. Il promontorio anticiclonico subtropicale ha interessa in questo momento l'Europa centro-occidentale e sarà presente fino a sabato. Sul Veneto avremo condizioni di prevalente stabilità. Qualche variabilità sarà presente invece in montagna. Le temperature saranno superiori alla media, anche di molto. nei valori massimi. Domenica però ci sarà un cambiamento delle condizioni climatiche per un cedimento per il transito di una saccatura da ovest che porterà tempo instabile con precipitazioni associate ad un callo termico. Lunedì poi il tempo dovrebbe ristabilizzarsi. È tutto per questa edizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento a domani. Buona serata. Autore dei sorrisi Autore dei sovrapposti